E non perchè... E ma... E gli zombie... E qua... E sono forti... E ho preso fuoco... E non perchè... E ma sono veramente tanti... E sta arrivando un'orda... E non che forse... E che forse, forse... E che non è che bisogna... Aspetta un attimo... Ma guarda qua è l'altro bastardo che... Con tutti i posti che c'erano... E vabbè... Siamo saltati tutti d'aria e...